Buonasera e bentornati, insomma un po' di concitazione durante le pause perché qui è dentro uno fuori l'altro, davvero un continuo e siamo ben contenti che i candidati, anche i candidati che in questo momento ci stanno guardando e non magari nei giorni scorsi non ci hanno sentito, non ci siamo messi d'accordo. Non c'è problema, venite qua, basta un messaggino sulla pagina Facebook, i nostri ragazzi della redazione vi risponderanno, vi danno l'indirizzo, venite qua, entrate, mi raccontate e ci raccontate la vostra idea di Milano e continuiamo la puntata insieme. E ci ha raggiunto, infatti come abbiamo detto poco fa, ci hanno salutato i nostri primi due ospiti, ci ha raggiunto Stefano Donofrio di Sinistra per Milano, candidato al Municipio 1. Benvenuto, buonasera, anche per lei come per i suoi colleghi e pazienti, dietro il microfono i suoi 30 secondi di presentazione. Buonasera a tutti, Stefano Donofrio, io sono un consigliere uscente, ho fatto i primi cinque anni con la giunta Pisapia in consiglio di zona 1 e ho presieduto la commissione mobilità, la commissione che si è occupata del traffico e che quindi è stata la commissione che ha lavorato per Area C, per la sua realizzazione e questo è stato il primo grande lavoro che abbiamo fatto all'inizio del nostro mandato. E poi abbiamo lavorato nel corso dei cinque anni per migliorare la mobilità cittadina, la mobilità del centro cittadino, cercando di lavorare per le zone 30, per la mobilità sostenibile, per potenziare e favorire la ciclabilità e la pedonalità della zona. È un lavoro che abbiamo cominciato cinque anni fa e che io mi candido a portare avanti nel corso del prossimo quinquennio. Non di solo mobilità ovviamente si vive, non è solo questo quello che ho fatto e che voglio fare, ci sono tantissimi aspetti della nostra zona che intendo portare avanti, gli aspetti che mi stanno più a cuore sono quelli legati anche alla cultura e una sostenibilità della cultura, perché che si mi pensi il nostro centro, nonostante sia la zona più frequentata della città, soprattutto durante il giorno e la sera, solo in alcune zone, è in realtà una zona che ha tantissime potenzialità culturali, paro di teatri, di cinema, eccetera, che devono essere ancora di più valorizzati, soprattutto pensando ai più giovani che quella zona la frequentano, soprattutto di giorno, perché frequentano le scuole e le università e che invece di sera la abbandonano. Un po' secondi, si è preso un paio di quarti d'ora, ma va benissimo, no scherzo, perché si può comunque sedere qui con noi e andiamo avanti invece a parlare, perché stavamo parlando proprio, il suo microfono è lì di fianco a lei, stavamo parlando poco fa, prima che arrivasse, proprio di mobilità, quindi anzi è arrivato a pennello, e giustamente il mio camion giugno era il suo turno e quindi volevo appunto lasciare la parola a lei sul discorso, noi siamo partiti dal, come mi ha preso ad esempio, l'area pedonale del Castello Sforzesco, Parisi la vuole togliere, ovviamente Sara la vuole tenere, Basilio Rizzo cosa fa? Il nostro programma da questo punto di vista si basa sul considerare Milano come una città che non deve essere solo centralizzata come adesso, abbiamo una periferia molto importante che come abbiamo detto prima è stata spesso dimenticata, abbiamo una provincia che ormai fa parte di un ambito territoriale molto più importante che quello della città metropolitana, non dimentichiamo che noi adesso andiamo ad eleggere anche il prossimo sindaco della città metropolitana, secondo noi, come dicevo, si è investito un po' troppo sul centro, invece di pensare a prolungare effettivamente le metropolitane verso l'esterno, anche la M4 in realtà non fa altro che arricchire l'offerta di mobilità gravante tutta sul centro. Ho capito. Abbiamo comunque il tema di mobilità, anche se in questo momento chi sta guardando la casa, vi prometto, non è tele Stalingrado, nonostante abbiamo qui solo gente di sinistra, come vi abbiamo spiegato in questi giorni è un continuo dentro uno fuori l'altro, come ho usato definire questa cosa, quindi anzi, se non volete che sia solo tele Stalingrado, chiedo ai candidati consiglieri del centro-esterno di venire pure e semmai ribattere a quello che stanno dicendo i nostri candidati qui. Abbiamo parlato di mobilità, però io ho una domanda da fare, siete qua, fuori due, non si potrebbe... Sinistra per Milano, l'anima di sinistra che appoggia Sala, Milano in comune, sinistra, anzi ha spaccato parte della Sista milanese, parte di SEL, è venuta con voi che invece ha un altro candidato. Don Offrio, dovevano... perché non venite tenuti? La domanda è questa, proprio detta... Io credo che sia importante dire che la scelta anche di sinistra per Milano di appoggiare la candidatura di Beppe Sala non è stata una scelta facile, tanti di noi di sinistra per Milano hanno lavorato nelle primarie, hanno sostenuto altri candidati, io personalmente ho lavorato con Francesca Balzani, ma prima quando l'unico candidato era Pierfrancesco Maiorino ho lavorato con lui, ma insieme abbiamo fatto una scelta molto importante, che è la scelta di continuare nel tentativo di governare la città, nella prospettiva di governare la città. Io che ho avuto in Consiglio di zona con me esponenti che oggi sono candidati con Milano in comune, che sono stati anche presidenti di commissione, che hanno lavorato parecchio, hanno lavorato benissimo per il nostro Consiglio di zona, io mi chiedo come mai siano usciti, perché hanno sostanzialmente rinunciato a governare ancora, in questo caso la zona 1, il futuro municipio 1, ma in generale la città. Io ho fatto questa riflessione, uno dei punti che hanno in qualche modo spaccato la sinistra nel corso dell'ultimo anno sono stati gli scari ferroviari. Anitta Sonego, Basilio Rizzo, eccetera, hanno scelto di fare un forte strappo sul tema degli scari ferroviari. Ma quello che mi dico io è, se sinistra per Pisapia, che attualmente possiamo ricondurre nell'alveo di Milano in comune, fosse stata l'opposizione in questi cinque anni, la sua posizione contro gli scari ferroviari non avrebbe avuto nessun valore, nessun peso. È proprio il fatto di essere stato in maggioranza che ha permesso comunque di ragionare nuovamente e di rimettere in discussione il tema degli scari ferroviari, che tra l'altro è ritornato in discussione anche nell'anima che appoggia Vettessara della sinistra e che quindi può ritornare a essere un tema della politica della città, cosa che non sarebbe successa se sinistra per Pisapia fosse stata già l'opposizione. Quindi io credo che la nostra scelta di rimanere e di essere l'anima della sinistra che tira, che cerca di orientare, che cerca di governare le politiche della futura, auspichiamo, maggioranza che avrà come Vettessara come sindaco, sia quella giusta, sia stata la scelta per continuare a governare la città. Raggiù, lei già ci diceva prima, l'idea comunque che non ci sia una gran differenza tra due candidati vi ha portato quindi a cercarne un terzo fuori appunto dai due grandi schieramenti. Però la domanda viene spontanea, come diceva il grande. Non si fa così il gioco di quell'altro però? Non so come dire. Allora io innanzitutto vorrei dire all'altro candidato, lui dice, come è stato possibile? Ma io dico per quanto riguarda Milano in Comune e per quanto riguarda anche le testimonianze che hanno portato in questi ultimi cinque anni proprio quei candidati di cui lui ha parlato. Come avete fatto voi ad appoggiare una situazione del genere? Come potete collaborare e sostenere e esservi impegnati per i prossimi cinque anni a sostenere le politiche, le proposte, le indicazioni che verranno dal ex direttore generale dell'Aggiunta Moratti. Sembra una cosa impossibile ma è avvenuta. Poi parlava delle votazioni. Io so che cosa vuol dire votare in un'aula consigliare. So che cosa vuol dire votare per il proprio programma, per le proprie idee, per l'impegno che è stato dato ai cittadini. Mi chiedo, penso che ce lo chiediamo tutti noi che siamo da questa parte, di come la cosiddetta spina nel fianco, mi sembrava che così dicesse, di un'eventuale giunta sala, come voterà a tutte le proposte che non condividerà. Lui ha parlato ovviamente di alcuni episodi che hanno spaccato questa sinistra di Pisapia. Sicuramente per tutte le questioni un pochino più secondarie ci si potrà trovare. Anche per tante questioni minimali ci si può ritrovare anche con l'opposizione, ci si può trovare anche con gli altri. Insomma, tutto quello che ha a che fare con un minimo di buonsenso condivisibile tra tutti. Ma sulle questioni importanti, che bisogna essere uniti sugli obiettivi, come farete voi ad essere uniti sugli obiettivi che hanno a che fare con il mondo che abbiamo descritto? Mi rubato la domanda, appunto, la mia paura è proprio questa, che un sistema per Milano abbia all'interno un'anima che dal giorno del 7 di giugno possa passare a fare l'opposizione invece che la maggioranza nel caso, ad esempio, vinca Sala? Assolutamente no. La nostra è una posizione che tra l'altro è molto simile alla posizione che abbiamo avuto in questi cinque anni. È proprio partendo dal tema della continuità con quello che abbiamo fatto in questi anni che abbiamo preso questa decisione. Insomma, si fa un bel dire sulla figura di Beppe Sala come ex direttore generale della giunta Moratti, ma al di là di Beppe Sala abbiamo a che fare e continueremo a lavorare con le stesse identiche persone con cui noi e anche Milano in Comune, Sinistra per Pisapia, Rifondazione Comunista, eccetera, hanno lavorato per cinque anni e hanno lavorato come? Hanno lavorato bene, perché non si può negare di aver lavorato bene. È chiaro che quando ci si trova in una situazione di coalizione, in una situazione di... Non è così, Bastoni diceva che non avete lavorato bene, è poco fa. Ovviamente, ci mancherebbe che l'opposizione lo dicesse, ma noi rivendichiamo il fatto invece di aver lavorato bene, molto bene. Ma è chiaro che quando ci si trova in una situazione di coalizione e soprattutto quando ci si trova in una situazione di coalizione in cui la propria percentuale di voti non è tale da essere egemoni all'interno di una coalizione, beh, bisogna cercare di rendere sempre più forte la propria posizione nei limiti ben conosciuti e di cui si è ben consapevoli dentro i quali si può lavorare e ci si può confrontare. Quindi il nostro obiettivo non è assolutamente quello di fare da tappetini. Il nostro obiettivo è quello di governare le scelte, di essere determinanti nelle scelte, di orientare le scelte ed è chiaro che lo faremo con lo spirito di coalizione che è lo stesso spirito che ci ha permesso di lavorare, io ripeto ancora una volta, bene, nei cinque anni e appena passati. Abbiamo parlato appunto di comune, in realtà però non offre lei il candidato a un municipio. Abbiamo parlato fino adesso con un ex consigliera di zona 7, ex zona 7, ora municipio 7, abbiamo parlato di periferia e così. Lei è in realtà candidata a un municipio che è l'unico municipio che non aveva periferia. È un municipio molto particolare. Ieri sera ero ad un incontro molto interessante e molto importante di una situazione che si chiama Raggio Crocetta che lavora sulla zona di Corso di Porta Romana, Via La Marmora, eccetera. E sapete come loro si sono definiti? La periferia del centro. Perché stiamo parlando di una zona dove ci sono... Lo vado a raccontare a quelli che abitano a Quattro Giaro, però, che è quella della periferia del centro. Stiamo parlando però di una zona dove ci sono sette, almeno sette edifici di grandissime dimensioni, completamente abbandonati da decenni. Stiamo parlando di una zona che ha visto un decremento notevole delle attività commerciali. Parliamo delle attività di base, non ci sono più macellerie, non ci sono più pescherie, ma non c'è neanche supermercato. Di solito si dice il piccolo commercio è andato via perché c'è la grande distribuzione. No, non c'è neanche più. Perché in centro il supermercato ormai infatti non si può essere più... Io non sto parlando di periferie e di situazioni oggettivamente più difficili, però con questo, pur nelle proporzioni inevitabili, sto parlando di situazioni che anche in centro non sono certo tutte... Infatti, perché le faccio una domanda proprio da uomo della strada, no? Trave da pensare che il municipio 1 è il municipio che non ha problemi, è il municipio che vive bene, è il municipio che ha tutto quello che vuole, invece evidentemente quindi non è così, ci sono delle problematiche importanti? Beh, ci sono sicuramente delle problematiche diverse rispetto a quelle delle altre zone, però bisogna tenere conto di una cosa, che il centro cittadino, pur essendo una zona dove vivono 80-90 mila persone, quindi la metà rispetto alle altre zone della città, che è in effetti anche una zona più piccola, è comunque una zona che durante il giorno si popola di... decubblica la sua popolazione, i fruttori, i turisti... Quanti residenti ha, scusi, la zona 1, il municipio 1, mi diceva? 91 mila, quando ci sono state le azioni del 2011, adesso onestamente non so quale sia stato il gap, ma credo che sia addirittura diminuita, perché questo è sicuramente un problema, quindi senza voler parlare di questo come un problema gravissimo, certo l'invecchiamento della popolazione, e quindi anche la necessità di servizi per persone che d'età, e quindi hanno bisogno di certi servizi, ovviamente aumenta. Ma io sto dicendo che invece il discorso, la peculiarità del centro e del municipio 1 è quella di dover essere una zona non soltanto attenta ai suoi residenti e alle persone che ci vivono, ma soprattutto attenta alle persone che quella zona la frequentano. Se ci sono in centro, nel municipio 1, se ci sono l'ospedale policlinico, l'ospedale Fettabene Fratelli, l'ospedale San Giuseppe, il Gaetano Pini, l'università cattolica, l'università statale, e decine di altre scuole e servizi di ogni ordine grado, il tribunale e quant'altro, significa che bisogna stare attenti a moltissime situazioni e problematiche che ovviamente rendono molto più complesso il lavoro anche all'interno del municipio, che viene sempre visto come il luogo di riscontro immediato tra il cittadino residente e la politica, il primo luogo di confronto. Ma in realtà deve essere un luogo di confronto non soltanto col cittadino residente, ma anche con tutti coloro che qui vengono e vivono. Se pensiamo per esempio al tema che è brutto definirlo così, ma ormai è questo il suo nome della Movida, questo è un problema per il centro, per il municipio 1. Se parliamo dell'economia di San Lorenzo, dell'arco della pace, o di altre situazioni magari più localizzate, poco conosciute, ma che comunque esistono, come Piazza Sant'Agostino, che vive una situazione di oggettivo degrado, dopo il lunedì sera, quando ci sono centinaia di giovani che la frequentano, che non sono residenti, ma che vengono da fuori, è ovvio che noi ci troviamo a che fare, ci troviamo a doverci confrontare con delle situazioni comunque problematiche. Ciò non toglie che ovviamente stiamo parlando di situazioni molto diverse rispetto a problemi che invece vengono vissuti in altri quartieri, come ovviamente le zone che... Evite un problema di immigrazione anche voi, non c'è altro senso. No, non da me dire. Detto così sembra... è una provocazione, ma in qualche modo, però è chiaro che qui stiamo parlando di valori. Ovvio, ovvio. Da un mio punto di vista in ogni caso si parla di valori quando si parla di immigrazione. In questo caso parliamo di valori aggiunti per la città e per il centro che ovviamente devono essere governati. Gagiuro, lei è candidata al Comune, quindi in realtà una risposta la possiamo dare su certe problematiche, no? Mi sembra giusto quello che ha detto il candidato, ovviamente fa un discorso molto ragionevole. Ritornando, quando lo ascoltavo, pensavo anche a quello che erano state le risposte della domanda precedente, per cui io mi chiedo, mi chiedo magari se posso farlo, come si concilia questa logica, questo ragionamento sulla prossimità, sul benessere dei cittadini, sulla questione delle attività commerciali, che devono essere le piccole attività commerciali da curare, eccetera, con, ritornando, mi dispiace, ma purtroppo noi questo modello dell'Expo non riusciamo proprio a dimenticarlo, come si concilia invece con tutto quello che è successo all'Expo, con la grande fiera delle multinazionali. Non mi sembrava che Sala fosse stato particolarmente accorto a questi aspetti. Non mi sembrava che... C'era Cascina Triulza, c'era no? Non mi sembrava... Ma è stata un po' di greenwashing, diciamo così. Scusate. E' una piccola parte sicuramente dell'evento, cioè l'evento, chi è andato all'Expo non ricorda la Cascina Triulza, chi è andato all'Expo ricorda le grandi insegne delle multinazionali, ricorda i tanti ristoranti... Ma mi chiedo, non è così un po' però in tutti i grandi eventi, cioè mi immagino che agli Olimpiadi forse sarebbe uguale, no? Scusi, scusi un attimo, ricorda purtroppo la brutta vicenda degli appalti che non hanno, non sono stati governati secondo le logiche sacrosante della concorrenza del mercato. E questo sicuramente poi va a svantaggio, a discapito dell'economia, del mondo delle imprese, delle piccole imprese. Come si concilia questo modello così attento al piccolo con... È interessante questo dibattito. Quale domande a un futuro come giornalista televisiva, anche provocatrice giustamente, perché a me dispiace un po' che... Finte le elezioni potremmo anche aprire magari dei casting e vedere se... E vedere... Passate di qua a qualcuno di voi, benissimo. Mi dispiace in qualche modo che è la politica della lista Milano in Comune con cui abbiamo lavorato e con cui, come ha detto giustamente la collega, possiamo continuare a lavorare anche nel corso del prossimo quinquennio su tanti aspetti che sicuramente ci vedranno vicini, perché abbiamo lavorato insieme cinque anni, e quindi non si capisce perché dovremo staccarci completamente nei prossimi cinque anni. Mi dispiace che però sia tutta una campagna, una polemica innestata sulla figura di Beppe Sala e di quello che ha fatto come... come, diciamo, uomo dell'Expo e in generale del suo passato anche con la Giunta Moratti. Io, come sicuramente, tu lo sa, avendo lavorato in Consiglio di zona, credo che nulla sia così scontato nel rapporto tra quello che un sindaco, un candidato sindaco, ha fatto nel momento in cui è stato direttore dell'Expo e quello che poi verrà fatto nei comuni, nei municipi, nella attività quotidiana sul territorio, se non per il fatto che insieme a livello di coalizione, a livello di partiti che della coalizione fanno parte, di persone che dentro quella coalizione lavorano, si può costruire insieme. L'attenzione al piccolo commercio, l'attenzione, ad esempio, che noi come Consiglio di zona 1 abbiamo avuto e continueremo ad avere, ad esempio, sulla cercare di mantenere intatte le radici e le peculiarità di zone importanti e caratteristiche della città, come ad esempio Garibaldi o Brera, non hanno niente a che vedere col fatto che ci fosse il padiglione della Coca-Cola a Expo. Poi, come dicevi giustamente, in tutte le manifestazioni di grande rilievo, è chiaro, quando c'è il richiamo... Io che raggiungo su questo discorso, non ho già avuto modo di discutere lungamente. Posso immaginare, quando c'è il richiamo delle grandi manifestazioni e quindi delle migliaia, milioni di persone che possono venire, il marchio cerca di portare il suo logo ovunque e se poi riesce a fare, riesce a essere anche un veicolo anche di economia che gira a favore, perché non dovrebbe esserci. Noi riteniamo anzi di aver fatto dei buoni lavori, degli ottimi lavori nel rapporto pubblico-privato, ragionando, ad esempio, su alcune riqualificazioni di spazi che altrimenti non sarebbero mai stati riqualificati anche nella stessa zona 1, grazie al rapporto pubblico-privato, grazie al fatto che il privato giustamente può ricevere un beneficio da una riqualificazione di un ambito e se quella riqualificazione dell'ambito risponde a un'esigenza comune, a un bene comune, ben venga. Ben venga nel momento in cui viene guidata, governata dal pubblico che riesce a intravedere il bene anche laddove invece, magari pregiudizialmente, questo non viene visto. Io dico un'ultimissima cosa, poi mi spiace di dovervi lasciare, ma quando io penso al rapporto pubblico-privato, penso ad esempio al fatto che ogni volta che c'è una ristrutturazione magari di un edificio, di una casa o di uno spazio da parte di privati, il pubblico viene in qualche modo compensato dagli oneri di urbanizzazione che servono normalmente a, non vengono monetizzati, ma servono a realizzare opere di interesse pubblico. Se noi in Italia ricaviamo circa l'8%, cioè rispetto al valore dell'immobile che viene riqualificato, l'onere di urbanizzazione è pari all'8%, in Germania invece pari al 30%. Noi dobbiamo lavorare affinché questa cooperazione e collaborazione tra pubblico e privato... Diceva che però la Giunta attuale ha già alzato le tasse in maniera esponenziale e ha già aumentato anche, non so, semplicemente il plateatico anche solo per la fiera degli artigiani sul Naviglio. Non sarebbe ancora peggio aumentare ancora un'ennesima volta altre spese per... Non è tanto, non è un discorso di tassa, è un discorso di mettere a uso comune, a fattore comune, e in questo credo che le nostre due posizioni saranno ovviamente vicine e solidali nel cercare di raggiungere questo obiettivo affinché i soldi che il privato mette per riqualificare un qualcosa di cui poi andrà a fruire, andrà a godere, entrino a far parte di un meccanismo di avvantaggio per il pubblico di cui tutti noi andremo a godere e a valere. Il discorso dei plateatici è particolare, noi veniamo imputati di essere stati la giunta delle tasse, ma in realtà siamo andati a rimettere a posto una situazione palesemente sperequata, palesemente sbagliata, laddove l'uso di spazi in pieno centro, l'uso di spazi in zone di altissimo valore, era parificato all'uso di spazi invece laddove il valore di fruizione era infinitamente più basso. Non ho visto chiudere un plateatico in centro città, nonostante le proteste. Non ho visto nessuna serranda abbassata per il fatto che è stato aumentato il costo del Deor e la tassa da pagare al Deor. Anzi, mi si permetta questo, io credo che vent'anni di deregulation sull'uso degli spazi pubblici a favore degli esercizi privati, insomma, meno male ha trovato perlomeno non un paletto, non uno stop, ma ha trovato un modo affinché il Comune e quindi tutti noi e quindi il pubblico potesse sfruttare, fruire della monetizzazione di questi spazi come non è stato fatto nei precedenti vent'anni. Ho capito, va bene. Ce l'ha anticipato lei, so che ci deve salutare. Raggiulo, se lei rimane qui con noi sono solo contento, lei rimane ancora qua un po' con noi? Va bene, va bene, va bene. Guardi, sono solo contento, sei qua, è qui della zona, qui sono solo contento. Guardi, le chiedo solo un secondo che allora mandiamo uno stacco pubblicitario, ci rivedremo in tre minuti non di più e siamo di nuovo da voi con questa puntata del candidato. A fra poco.